ciao a tutti benvenuti sul mio canale questo è il primissimo video che faccio qua su youtube mi chiamo Elena ho 23 anni e abito in Friuli durante questo percorso speciale avremo modo di conoscerci meglio e soprattutto di imparare cose carine in più vi svelerò passo per passo esattamente tutte le mie passioni e soprattutto scoprirete di cosa mi occupo iniziare a fare video su youtube è veramente una grande sfida per me spero tanto di non fare tante figuracce e di portarvi un sorriso durante i miei vlog e i miei video vi posso svelare che mi piace tantissimo il mondo del makeup e la crescita personale da oggi quando vederò con voi un sacco di cose carine e sono certa che comunque ci divertiremo se vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdervi assolutamente niente e ovviamente lasciate un like e iniziamo